Ciao a tutti e benvenuti a Do Yourself Ispirazione. In questo video voglio farvi vedere come realizzare un tatuaggio con il tema stavolta di Harry Potter e in particolare vedrete che faremo il simbolo dei doni della morte. Per questo ci serve quindi un mascara di quali liquidi come questo, poi ci serve della polvere come appunto se fosse il borotalco e della lacca. Se avete già visto ho fatto un altro video con lo stesso metodo, invece quella volta era una farfalla, ma ora vi faccio vedere qualcosa di diverso. Prima di tutto quindi parto facendo un triangolo, vedete? Il pennino è molto fine, devo prendere giusto un po' di colore ma non troppo. Quindi come vi dicevo lo faccio sul polso nella mia mano sinistra e parto facendo il triangolo che è la parte esterna del simbolo dei doni della morte. Se avete in mente è un po' il simbolo appunto che è quello di Lord Voldemort. Fate attenzione che i tre lati del triangolo siano uguali e della stessa lunghezza quindi ecco qua. Poi c'è il cerchio nel mezzo Poi c'è il cerchio nel mezzo lasciamo asciugare un attimino e infine c'è l'ultimo pezzo che è quello che collega diciamo la cima del triangolo passando in mezzo al cerchio in questo modo vedete eccoci qua e ora lasciamo asciugare il tutto per bene ecco qua, questo è tutto asciugato ora metto un po' di borrotalco per asciugare ancora bene e spalmo un pochino una volta rimosso la parte in eccesso parto quindi con la lacca vedete in questo modo e lascio asciugare per bene mi raccomando con la lacca tenete sempre le distanze di sicurezza e se potete soprattutto lì al lato rimuovete la parte in eccesso spero che questo video vi sia piaciuto, questo è il mio risultato finale fatemi avere qui come solito sotto i vostri commenti se avete voglia di altre idee per questi tatuaggi provvisori guardate pure sul nostro canale troverete tante altre idee e fateci sapere come solito quello che ne pensate spero che possiate anche cercare sul nostro canale altre informazioni e avrete voglia di magari realizzare altre idee con noi con Do Yourself Ispirazione Ciao